Ciao a tutti ragazzi, sono Nox, questo è Arwin e sapete tutti dove ci troviamo. Siamo ad Anor Londo e stiamo andando verso la nebbia che ci separa da Ornstein e Smaug, il duo che ha ucciso un sacco di giocatori e ora non li vendicheremo ragazzi. Io e Arwin ci faremo strada per arrivare dalla principessa. Ragazzi, ci vediamo dall'altra parte della nebbia. Dai Arwin, dai, forza. Dai Ornstein, vieni qua. Mi è andata bene che non avevo visto chi aveva sparato il raggio, raga. Dai. Forza, adesso c'è Smaug. Forza, adesso c'è Smaug. Sì, sì, Ornstein e Smaug sono andati. Sì, così. Ragazzi, ho dovuto usare per forza l'anello di pietra rossa perché mi stanno facendo impazzire. Senza, probabilmente non ce l'avrei fatta perché più che altro che quando sono in due è molto facile che ti colpiscano. Finalmente ragazzi, ci ho messo un bel po', avrò fatto almeno 30 tentativi e i primi 20 senza anello di pietra rossa. Poi ho deciso di metterlo per appunto questo motivo, per batterli e disintegrarli. Noi adesso accendiamo il falò, ragazzi. E io ragazzi vi saluto e ci becchiamo. Anzi no, prima vi faccio vedere giustamente che sono a livello 1, se no. Non ha senso. E vi saluto. Ci sentiamo per il prossimo boss. Alla prossima. Alla prossima.